Per la prima volta durerà due intere giornate l'edizione 2015 di Cantina Aperte in Umbria il 30 e 31 maggio che rilancia con il nuovo slogan Vedi cosa bevi e bevi cosa vedi, il bere consapevole e l'enoturismo come stile di vita. Tante le iniziative in programma nelle 48 cantine socie del Movimento Turismo del Vino Umbria, in linea anche con il tema di Expo 2015 Nutrire il Pianeta. Animazioni, convegni, un concorso fotografico e pacchetti enoturistici. Il ricco programma della due giorni è stato presentato questa mattina nell'Aula Magna della Facoltà di Agraria alla presenza del professor Francesco Tei, direttore del Dipartimento di Agraria e delegato dal Rettore per Expo 2015. Il professor Tei ha introdotto una delle novità salienti di questa edizione della manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino che è la presenza dell'Università degli Studi di Perugia in Cantina nella giornata di sabato 30 per una serie di convegni di approfondimento dedicati al vino sotto l'egida di Expo. Dal presidente del Movimento, Filippo Antonelli, l'invito a visitare le cantine proprio sabato 30 maggio quando si comincia con i convegni per arrivare alla tradizionale cena con il vignaiolo che quest'anno sarà organizzata in 19 cantine umbre e durante la quale i piatti della tradizione sposeranno i netteri del territorio. Il tema architettonico paesaggistico sarà oggetto del convegno che si terrà alle 10 alla tenuta a Castelbuono di Bevagna di quello turistico si parlerà invece al Museo delle Olive e dell'Olio di Torgiano alle 16 di quello storico a Montefalco presso la cantina Scacciadiavoli, una delle cantine storiche del territorio alle 16.30. L'aspetto più strettamente tecnico sarà trattato a partire dalle 16.30 alla cantina Zanchi di Amelia dove sono stati recuperati vitini autoctoni antichi. Infine l'aspetto alimentare del vino legato al benessere, alla dieta mediterranea e alla qualità del vivere sarà oggetto del convegno di sabato alle 17 alle cantine Goretti di Pila. Naturalmente Cantina Aperte sarà anche un invito al bere consapevole e alla solidarietà. Per questo l'intero incasso del calice di Cantina Aperte 2015 sarà devoluto all'Air Cumbria per la ricerca oncologica nel suo cinquantesimo anniversario.